Anche quest'anno Torino ha ospitato il concorso internazionale di marinera, danza tradizionale patrimonio culturale peruviano. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Lascaris alla presenza della vicepresidente della Repubblica peruviana Marisol Espinoza Cruz, che nel suo intervento ha sottolineato la necessità di promuovere non solo in Perù il ruolo della donna nella società, nell'imprenditoria e nella politica.